C'è grande attesa per il lungo Capodanno Teramano che inizia il 30 con il concerto di Cristina D'Avena e si concluderà il primo di gennaio con il concerto di Ermal Meta. I concerti sono organizzati dalla Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli nel cartellone di Abruzzo dal Vivo con la collaborazione del Comune di Teramo. Esatto, infatti ringraziamo il Ministero per i Beneattività Culturali, ringraziamo la Regione Abruzzo e ringraziamo anche per la collaborazione il Comune di Teramo. Sono tre giorni importanti, insomma di grandi eventi, cominciamo come dice lei il giorno 30 alle 21 a 30 con il concerto di Cristina D'Avena e Gembo, insomma c'è tantissima richiesta particolarmente per questo concerto. Sono previste anche tante persone da fuori provincia per Cristina D'Avena. Sì, ci stanno scrivendo in tanti, tantissimi che vogliono incontrare, vogliono conoscere, insomma, Cristina D'Avena, gli stessi Gembo. Noi stiamo a vedere che cosa succede, non sarà facile, però noi da parte nostra ce la metteremo tutta. Il giorno 31 invece sarà il concerto per così dire centrale, cioè il concerto di fine anno, dove abbiamo voluto chiamare dei gruppi in qualche maniera per vitalizzare proprio questa serata, per ballare tutti insieme. Taranta e Saltarello. Esatto, al centro del concerto ci sarà proprio l'orchestra popolare La Notte della Taranta, proprio l'orchestra ufficiale della Notte della Taranta e ci saranno anche l'esibizione di gruppi locali, prima, e anche dell'orchestra popolare del Saltarello che sta avendo molto successo a livello nazionale. Il giorno dopo invece il concerto del primo gennaio alle ore 18 sarà quello di Ermalmeta, insomma, che sappiamo essere oggi uno dei cantanti più apprezzati e più seguiti dal pubblico italiano. E c'è grandissimo interesse e grande richiesta anche per questo concerto che concluderà il Capodanno Terramano, tra l'altro l'avete collocato in un orario probabilmente azzeccato per il primo dell'anno. Sì, naturalmente abbiamo pensato, insomma, che la gente dopo i festeggiamenti del 31, insomma, molto probabilmente il giorno 1 andranno a dormire un po' prima, insomma, quindi metterlo un orario pomeridano, diciamo, può facilitare anche, diciamo, tanti a partecipare, a cominciare anche dai ragazzini, dai più piccoli, insomma, quindi non vogliamo esagerare con gli orari a lungo termine. Tutti i concerti, quello del 30, quello della notte di Capodanno e quello del primo di gennaio, sono gratuiti? Esattamente, sì, questo è un aspetto fondamentale. Anche qui riceviamo delle richieste di informazioni, se ci sono appunto biglietti, naturalmente no, gli ingressi sono assolutamente gratuiti. Grazie. Grazie.